Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Allora ragazzi, prima di iniziare qualche premessa. Scusatemi per la mia voce, probabilmente è alquanto nasale, ma ho il raffreddore. Se vedete dietro di me il deserto dei tartari, non vi preoccupate, non so se sta succedendo niente di grave, semplicemente mi sto trasferendo, vado a convivere, questo vuol dire che avrò anche uno studio tutto per me e ci sarà anche un bel background, ma zero spoiler, non vi aggiungo altro. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito al mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che onestamente mi ha stupita. Giordana Di Stefano è la protagonista della nostra storia. Una ragazzina di 15 anni che rimane incinta e difende la sua maternità ad ogni costo. Siamo a Nicolosi, un paesino alle pendici dell'Etna, a Catania. Ma ora, come al solito, fermiamoci un attimo e facciamo un passo indietro. Chi è Giordana? La ragazza nasce il 6 maggio del 1995. Appena viene al mondo è una gioia per tutta la famiglia. Inizia a parlare presto. A dieci mesi circa inizia a dire le prime paroline e a un anno è già lì che corre per tutta casa. A tre anni Giordana ha il piglio della ballerina. È molto solare, piena di energie. È una bambina che non piange mai. A sei anni Giordana inizia a frequentare un corso di danza classica e per tutta la vita, attraverso il ballo, esprimerà le sue emozioni. Nel 2001 i genitori di Giordana si separano, ma è una separazione civile dove la mamma e il papà per quanto possibile evitano di far pesare sulle figlie il loro distacco. Col tempo però Vera, la madre delle ragazze, Giordana e sua sorella Erika, riescono a creare un legame ancora più forte. Sono tutte e tre donne, vivono insieme e col tempo instaurano un rapporto davvero speciale. Vera e le sue figlie creano un universo tutto al femminile che segnerà positivamente l'adolescenza di Giordana. La ragazza negli anni cresce e cresce anche nella danza dove sceglie di specializzarsi nel flamenco ed è brava. Molto brava. A 15 anni Giordana è una ragazzina esuberante. Attorno a lei ci sono sua sorella Erika e suo cugino Salvatore. Poi c'è Ilenia, l'amica con cui condivide ogni singolo segreto. E infine c'è anche Gaia, la sua inseparabile compagna di banco. Tutto anche in questo caso inizia con una passione di Giordana, ossia il ballo. Giordana insomma ama ballare il flamenco e in una di queste serate incontra un ragazzo che si chiama Luca. Ha 19 anni quindi è più grande di Giordana e ha una vera ossessione per il mito di James Bond. Insomma Luca non è che si comporti bene con Giordana, lui è più grande, Giordana è più piccola quindi Luca la lascia sola nei weekend, va a ballare con i suoi amici, si fa i cavoli suoi, va a giocare alla Playstation con i suoi amici. E a Giordana lascia quelle che sono le briciole del suo tempo. Ma si sa, a 15 anni non scegli la persona giusta, non pesi i pro e i contro, non rifletti. A 15 anni ti innamori e basta. E infatti Giordana si innamora follemente di Luca, stanno insieme per circa due mesi. Poi succede qualcosa. È il 2010, Vera è la mamma di Giordana, che però come già vi ho accennato prima non è figlia unica. Ha anche una sorella di nome Erika. Vera, la madre delle ragazze, è chiaramente in ansia, è una donna separata e le sue figlie stanno crescendo, stanno avendo giustamente i primi rapporti con i ragazzi. Quindi Vera ha escogitato un modo per attenuare le sue paure e le sue ansie, ossia il metodo delle tre X. Ognuna di loro comunica alle altre due con una X sul calendario l'arriva del ciclo. Il metodo funziona fino a quando arriva un giorno in cui le X sul calendario sono due e non tre. E a questo punto tutto si complica. È mattina. Vera va in camera di sua figlia, che si è appena svegliata. E senza girarci troppo intorno le chiede, Giordana c'è qualcosa che mi devi dire per caso? Giordana rimane immobile, ha la faccia dispiaciuta. Vera quindi le si avvicina e le dice, tesoro, che ne dici? Facciamo un test? Vera è molto delicata. Di certo non si mette lì a fare un applauso a sua figlia, ma non la aggredisce. Così Giordana un pochino si tranquillizza, è sempre tesa, ma dice a sua madre, sì mamma, dobbiamo fare un test. Così Vera si prepara velocemente, va di corso in farmacia, compra un test di gravidanza e alla fine quel test risulta positivo. E quel risultato cambia la vita di tutti. Una ragazza di 15 anni incinta scatena il panico in qualsiasi genitore. Il primo vero e onesto pensiero di Vera è, ed io adesso cosa diavolo faccio? Perché è chiaro, Giordana è piccolina, ha solo 15 anni e con quel ragazzo di certo non ci starà insieme tutta la vita. Vera vive in quel momento un'incertezza totale. C'è l'incertezza dell'età, l'incertezza del ragazzo di Giordana, che per quanto sia più grande di lei di certo non è un adulto. Ma soprattutto c'è l'immaturità di Giordana, che, ripeto, rimane una quindicenne. Vera vede a questo punto il futuro di Giordana distrutto, ma non vuole esplodere davanti a lei, non vuole giudicarla, non vuole farla sentire sbagliata o addirittura sporca. Quindi scende di casa, sale in macchina e si allontana. Parcheggia poco distante e, per un'ora buona, si dispera in solitudine. Vera piange, urla, si sfoga. Lascia che le sue emozioni prendano il sopravvento, ma lo fa da sola, in macchina. Quando torna a casa, Vera pensa semplicemente, ok, io ora devo capire che cosa vuole fare Giordana. Questo bambino lo vuole tenere? Non lo vuole tenere? Giordana, dal canto suo, non ha dubbi. Vuole tenere quel bambino. Per lei è tutto chiaro. C'è dell'amore e quindi c'è anche un figlio. Vera appoggia la decisione di Giordana. La accompagna quindi nei mesi a tutte le visite ginecologiche e vive con lei a stretto contatto in mesi di gravidanza. Luca, il fidanzato di Giordana, in realtà questa gravidanza non vuole proprio accettarla. Dopo una visita ginecologica, il ragazzo si fa trovare sotto casa di Giordana. I due quindi salgono in casa e si chiudono in camera da letto. Ma non per fare delle cose, assolutamente no. Perché a questo punto Luca, senza mezzi termini e con queste parole, dice Giordana Giordana è messa sotto pressione da Luca per la richiesta d'aborto. E in effetti Luca non ha la testa per creare una famiglia. Lui ha solo 19 anni, vuole essere un ragazzo libero. Pensa a divertirsi, ad uscire con gli amici. Va molto spesso in discoteca. Ma per Giordana non è affatto così. In quella gravidanza inaspettata vede l'esito naturale della loro storia d'amore. Ma soprattutto Giordana, quella maternità, non vuole rinunciare. Nonostante la sua giovane età e nonostante Luca. Vera, data la giovane età di Giordana, vuole e ottiene che sua figlia resti a casa con lei. Luca, che non ha un lavoro durante la gravidanza, potrà comunque andare da lei e stare con Giordana quando e quanto vuole. Luca in realtà subisce la decisione della sua ragazza. Lui quella figlia non la vorrebbe e questa è la sua prima frustrazione. Giordana non abortisce. Giordana non fa quello che vuole lui. Luca scarica la paura di diventare padre contro Giordana. E durante i nove mesi di gravidanza inizia a screditarla sistematicamente. Luca continua a stressare Giordana, prova ad impedirla addirittura di andare a scuola per non farsi vedere in giro. Secondo Luca Giordana non si deve spostare da casa. Per tutto il periodo della gravidanza deve rimanere chiusa in casa. Giordana, è inutile che ve lo dica, continua e coma ad andare a scuola. Non ha intenzione di mollare tutto a 15 anni. Al limite alla nascita della bambina si sarebbe presa una pausa per poi riprendere gli studi più avanti. Luca inizia a dire a Giordana che non sarebbe mai stata una buona madre perché è troppo giovane. Inoltre non si sarebbe mai ripresa fisicamente. Insomma, Luca continua a sminuire Giordana per delle paure che in realtà sono dentro di lui. Perché Luca ha paura di non essere un buon padre. È consapevole di essere troppo giovane ed è anche consapevole di essere troppo immaturo per riuscire a gestire una situazione del genere. E purtroppo a Giordana questa immaturità sfugge. Luca ogni volta che vede Giordana la prende a parole, le dice cattiverie, poi la molla lì e se ne va a giocare alla Playstation con i suoi amici. Ciò vuol dire che non è d'appoggio a Giordana niente. Più la pancia cresce più Luca si vergogna di Giordana ed ogni occasione è buona per prendere le distanze da lei. La chiama balena davanti ai suoi amici, la umilia in continuazione. Luca a questo punto ripete a Giordana che è brutta, che si dovrebbe vergognare a uscire di casa con quella pancia perché è diventata enorme. Luca è chiaramente un ragazzo che si è ritrovato a vivere una situazione più grande di lui, che non sa gestire. Si trova immerso in una dimensione di responsabilità che non è in grado di prendersi. Nonostante la sua determinazione, il modo di fare di Luca getta Giordana in una brutta depressione. Vive un momento letteralmente tremendo e Luca non l'aiuta, anzi la distrugge. Giordana arriva davvero a non uscire più di casa perché piange in continuazione. Ha anche paura di rimanere da sola, di dover crescere quel bambino solo con le sue forze. Giordana quindi è ed è sempre stata sola, almeno per quanto riguarda Luca. E infatti in questo caso entra in azione vera. La mamma di Giordana che non ce la fa più a vedere sua figlia incinta, così scoraggiata e infelice. Dunque decide di intervenire. Un giorno quindi la sveglia e la convince ad andare a far la spesa con lei. Vera parla molto con sua figlia e sminuisce in continuazione ciò che le dice Luca. Vera dice Giordana. Giordana, ascoltami, a te non manca niente. Stai certa che tu e la bambina avrete sempre una casa, l'amore che meritate e il rispetto. Giordana è questo quello che devi costruire. Giordana si tira un attimino su, sale in macchina con sua madre e insieme si dirigono verso il supermercato. Però una volta arrivate lì Giordana chiede a sua madre se per caso può aspettarle in macchina perché sa che appena entrerà al supermercato tutti la fisseranno. Ma Vera in qualche modo si impone e la convince ad entrare con lei al supermercato. Le dice che non c'è nulla da nascondere né di cui vergognarsi. Vera quindi prende per mano sua figlia e difende davanti a tutto il paese la sua scelta di diventare mamma giovanissima e senza un matrimonio. E lo fa nel supermercato della zona in cui tutti le conoscono. Quando Vera e Giordana entrano al supermercato si rendono davvero conto che le fissano tutti, nessuno escluso. Hanno gli occhi di tutte le persone dentro al supermercato puntati su di loro. Nonostante ciò Giordana e Vera fanno la loro spesa in santa pace, pagano, escono e appena si infilano in macchina si fanno una grassa risata. Si abbracciano e per Giordana quello è un enorme passo avanti. Lei e la sua mamma hanno affrontato il piccolo mondo che c'è là fuori, che fa parte della loro quotidianità. L'hanno fatto insieme tenendosi per mano. Giordana arriva al parto con il sostegno della sua famiglia e delle sue amiche. Nonostante l'atteggiamento contraddittorio di Luca, la ragazza non vuole rinunciare a un papà per sua figlia. È ancora innamorata di Luca ed è convinta che l'arrivo di questa bambina cambierà sicuramente la situazione in meglio. Il 26 agosto del 2011 Giordana a 16 anni partorisce Asia, la sua bambina. Tutti i suoi parenti e le sue amiche sono lì, vicino a lei. Appena Giordana si sveglia si ritrova attorniata da persone che le vogliono bene, che la amano. E Giordana è davvero felicissima, è felice per la nascita della sua bambina ed è felice di avere attorno così tante persone che le vogliono bene. Ci sono tutti, proprio tutti. Con la nascita di Asia, come già vi ho detto, Giordana spera che Luca cambia atteggiamento nei confronti di entrambe. Le cose però non vanno proprio così, ma andiamo con ordine. Dopo il parto, come può accadere a moltissime donne, Giordana vive un momento di difficoltà, di fragilità. E Luca entra pesantemente in questo momento di debolezza. E come al solito, invece di sostenerla, la colpisce dove è più fragile, la sua femminilità. Giordana in quel periodo si vede in sovrappeso, infatti usa spesso tutte e felpe larghe per vestirsi. E Luca con la sua incredibile sensibilità dice a Giordana, ma non ti puoi vestire meglio, guarda ti sei trasandata, io mi vergogno a uscire con te così. A questo punto però, col tempo, qualcosa cambia. Se prima del parto Giordana subisce pesantemente il discredito di Luca, dopo la nascita della sua bambina, le sue parole non afferiscono più. Certo, i due ragazzi continuano a stare insieme, ma ora Giordana è cambiata, è cambiata profondamente. Sono cambiate le sue priorità, in quanto è diventata madre. Concentra dunque tutte le energie su sua figlia. E mano a mano che la bimba cresce, Giordana torna a prendersi cura di se stessa. Finché rimane a casa con Asia, Luca si limita ogni tanto a farle visita, per poi tornare alla sua vita spensierata con i suoi amici. In quel periodo, inutile dirlo, non solo non ha cercato lavoro, ma non si è preso cura neanche dal punto di vista pratico di sua figlia. Tutto cambia quando Giordana rincomincia a uscire di casa e torna a ballare il flamenco con la sua amica Gaia. Giordana si sente di nuovo libera, può esprimere se stessa attraverso il ballo. Ma, a Luca, questa situazione non va affatto bene. Una sera si presenta alla scuola di ballo e fa una vera e propria scenata. Entra in sala, stacca la musica e urla a Giordana che non si deve permettere di andare in quel posto pieno di d***ole. Luca ricopre di insulti Giordana, poi l'accusa di non avergli risposto al telefono, l'accusa di non avergli chiesto il permesso. A questo punto c'è uno scontro di potere. Da una parte c'è Giordana che vuole vivere la sua vita, dall'altra parte Luca pretende che Giordana vivi la vita che lui vuole che lei viva. Queste sono due posizioni contrastanti e di potere. Un'altra relazione che Luca vive, come una minaccia al suo potere su Giordana, è quella che la ragazza ha con suo cugino Salvatore. I due sono molto legati perché sono cresciuti insieme e da sempre escono insieme. Un giorno i due sono in macchina e in poco tempo si rendono conto che Luca li sta seguendo. Poco dopo si fermano a fare benzina e si ferma anche Luca. Scende dalla macchina e urla come un pazzo. Dove state andando? Poi guarda Giordana e le dice Tu devi stare in casa, non puoi uscire quando ti va a te. A questo punto Salvatore si mette in mezzo, spinge Luca, gli chiede di andarsene, fa salire Giordana in macchina e si allontana. Il fatto che Luca anticipasse spesso gli spostamenti di Giordana non sfugge a Vera. Come fa quel ragazzo a scoprire sempre dove vada e cosa faccia Giordana? Ebbene Luca le aveva regalato un suo vecchio telefono per il compleanno con installata un'applicazione che duplica e divia sull'utenza di Luca i messaggi e le chiamate di Giordana. Luca sa con chi parla Giordana e sa cosa dice Giordana. Sempre. Quando Vera dice a Giordana che Luca la spia attraverso il cellulare, Giordana ha una reazione che purtroppo, sbagliando, hanno anche molte ragazze e ragazzi. Interpreta questo fatto come un gesto d'amore e di interesse per lei. Vera, la madre di Giordana le dice Gioia, guarda che questo non è amore. Una persona che ti spia e ti segue, no, non ti ama, vuole controllarti, è diverso. È una persona ambigua, pericolosa, che non ha fiducia in te. Non puoi pensare che dato che lui ti spì, allora si è innamorato di te. Non funziona così. Giordana dal canto suo continua a sperare che Luca prima o poi decida di prendere in mano la situazione. Non vuole che sua figlia cresca senza un padre. Ecco perché si aggrappa con tutta se stessa ai momenti belli che ha vissuto con Luca. Tra l'altro tra i due ragazzi si sviluppa una sorta di rituale telefonico alquanto malsano. Lui chiama, ma lei non risponde. Lui quindi inizia a cercarla per tutto il paese. Dopo un po', lei, sapendo che lui lo sta cercando, lo richiama per sapere dove stia. A questo punto è lui a non rispondere, tenendo la intenzione. Una sera Giordana non risponde alle chiamate di Luca. È con sua figlia, con la sua amica in legna e con Salvatore a casa di quest'ultimo. Luca, esattamente come un ladro, si avvicina alla casa, ma non suona il campanello. Entra di nascosto da una tapparella lasciata aperta, perché vuole controllare cosa stia facendo Giordana. Luca prova girosia anche nei confronti di Salvatore, che di fatto è il cugino di Giordana. Sono amici. È così che Luca entra in casa, fa una scenata, inizia a spaccare un tavolino di legno, prova ad aggredirla. Ma ovviamente Salvatore si mette in mezzo, cerca di dividerli. Luca quindi inizia a insultare pesantemente Giordana, dicendo che quella casa è una casa a luci rosse, che è una poco di buono e che sicuramente fa qualcosa con suo cugino. Giordana neanche ci fa casa, quello che le dice Luca, ma gli dice che se ne deve andare. Non può entrare a casa degli altri così, non è stato invitato. Quando Luca se ne va, Salvatore, in lacrime, prega Giordana di lasciarlo andare, ma soprattutto di denunciarlo. Giordana pare abbia preso la sua decisione, perché dice Salvatore, questa è l'ultima che mi fa, fidati, tornerà tutto a posto. Un paio di mesi dopo quella violenta irruzione, Giordana lascia definitivamente Luca. Ma quest'ultimo non si rassegna e continua ad ossessionarla con squilli, chiamate e messaggi, fino ad inviarne 50 o 60 al giorno. Intanto Giordana va avanti con la sua vita e incontra Alessio, un uomo più grande di lei che fa il carabiniere. Dopo alcuni mesi di frequentazione, Giordana decide di far conoscere Alessio anche a sua figlia Asia. Il loro rapporto in poco tempo diventa importante, anche se tra i due ci sono 15 anni di differenza. Giordana con Alessio si sente protetta, sente che lui è l'uomo giusto per lei. Fino a quando, una sera, dopo essere stata accompagnata a casa da Alessio, si accorge, grazie ad uno specchio appeso in salotto, della presenza di Luca, che si è introdotto di nuovo in casa sua. Probabilmente Luca era già nascosto in giardino, ha sempre avuto questa terribile abitudine. Si nascondeva in giardino per controllare chi entrava e chi usciva da casa. A questo punto Giordana si preoccupa. Luca si permette di fare delle cose senza pensare minimamente al fatto che il loro figlia potrebbe spaventarsi. Giordana dice sempre, ok, vuoi spaventare me? Ci posso stare, ma non nostra figlia. Luca mette al primo posto se stesso e il suo essere manipolatore e ossessivo. Lui deve controllare ogni suo passo, anche a costo di farle paura, anche a costo di spaventare Asia. La reazione di Alessio è immediata. Si fa dare il numero di telefono di Luca, da Giordana, lo chiama e fissa con lui un appuntamento la stessa sera per un chiarimento. Luca accetta. Alessio appena vede Luca è un treno, gli si avvicina dicendogli, ti rendi conto di cosa significa entrare in casa di una persona senza che lei lo sappia, vero? Luca risponde, eh vabbè, impare. Alessio lo blocca e gli dice, no, impare, compa, è quello che vuoi. Lo dici ai tuoi amici, con me non lo fai, chiaro? Questa si chiama violazione di domicilio. Se vuoi ti faccio pure lo spelling. Sai cosa facciamo domani? Domani io e Giordana e sua mamma andiamo dai carabiniere e ti facciamo una bella denuncia. Così vedrai come ti passa il vizio di fare queste cavolate. Luca ribatte, no dai, non c'è bisogno della denuncia. Non puoi dire a Giordana di non fare la denuncia? Alessio lo guarda e gli dice, senti, togliti da davanti la mia vista, vattene, torna a casa e vai a dormire. Domani si vedrà cosa fare. Alessio non si aspetta neanche una risposta da Luca. Si gira e se ne va. Quello che doveva dire lui l'ha detto. E solo a quel punto Luca si rende conto che lì vicino con lui ci sono anche Giordana e Asia. Le due infatti si uniscono ben presto ad Alessio e vanno verso la macchina ma non nella mano. La visione di Alessio che va via con Giordana ed Asia per Luca è come un terremoto che scuote dalle fondamenta ogni idea di sé grandiosa coltivata fino a quel momento. Alessio è il primo uomo che si interpone tra lui e Giordana e lo distrugge letteralmente. Con l'arrivo di Alessio dunque Luca perde ogni influenza su Giordana. Non ha più potere su di lei. Peraltro l'intervento immediato di Alessio che fa il carabiniere dopo l'ennesima irruzione in casa della ragazza l'ha profondamente ferito, l'ha profondamente umiliato. Da quel giorno per Luca Giordana diventa uno specchio sempre più difettoso e l'immagine che gli rimanda è quella di un ragazzo immaturo. Un ragazzo incapace di essere padre e umiliato dalla presenza di un altro uomo. Giordana per Luca diventa la rappresentazione della sua impotenza, la rappresentazione della sua inutilità. Questo è uno specchio cattivo che dice la verità e che quindi prima o poi va distrutto in qualche modo. Giordana, Vera e Alessio alla fine decidono di denunciare le attività persecutorie di Luca. Giordana denuncia l'ultima irruzione e le molle telefoniche. Vera però è molto più dettagliata e denuncia anche la scoperta che la figlia era controllata da Luca attraverso un'applicazione installata nel suo cellulare. Vera in caserma esterna tutte le sue preoccupazioni per i comportamenti di quel ragazzo. La donna in questo caso chiede davvero aiuto perché ha paura che Luca possa fare davvero del male a sua figlia. Dopo la querela per stalking su consiglio degli avvocati, Luca dirà dalle occasioni di contatto con Giordana. Quando si avvicina la data del processo il ragazzo però riappare e inizia a fare pressioni su Giordana finché ritiri la denuncia. Si ritrova dunque in una situazione per lui assolutamente insopportabile. Quella di essere sottomesso e dipendente alla volontà di Giordana. Tra i due si consuma di nuovo un vero e proprio scontro di potere. All'inizio sembra che Giordana stia per cedere alle richieste di Luca. Poi però qualcosa nell'immediatezza del processo va storto. E dunque Giordana cambia idea. In Luca si accumulano sentimenti di rabbia, di odio e di vendetta. E tutto questo accade il 5 ottobre del 2015. Ossia un giorno prima dell'udienza per il processo per stalking. Quella mattina Giordana la trascorre con sua madre, sua sorella e sua figlia. Sono tutte a casa di Vera che sta ristrutturando. In quanto ha deciso con Giordana di riservarle uno spazio solo per lei e la bambina. Quella sera Giordana lavora in una ludoteca dove nel pomeriggio si è svolta la festa di compleanno di un bimbo. Finita la festa lei e una sua amica di nome Gabriella sono impegnate a rimettere in ordine la stanza messa a soccuadro dai bambini. A pochi chilometri di distanza Luca, col suo amico Nicola, sta guardando l'ultima puntata di L'onore e il rispetto. Luca mette pressione a Nicola. Vuole che scriva Gabriella per sapere se Giordana è ancora lì oppure no. Luca ovviamente è teso perché Giordana il giorno dopo deve andare con lui in tribunale con l'intenzione di ritirare la querela per stalking. La tensione e il disagio di Luca sono dovuti al suo essere sottomesso alla decisione di Giordana che ormai è al di fuori di ogni sua influenza. A questo punto è Luca che prova a chiamare Giordana e quest'ultima risponde. Ma a questo punto solo Luca conosce il contenuto di questa telefonata. Il ragazzo parla con Giordana per 5 minuti. È molto probabile che in questo contesto Luca abbia preso la decisione della ragazza di proseguire con la querela e di andare a processo. Passa di nuovo un po' di tempo. Luca oramai è rimasto solo e chiama di nuovo Giordana. Quest'ultima però non risponde. Luca quindi che fa? Si veste ed esce per andarla a cercare in tutto il paese. La prima tappa che fa Luca è quella sotto casa di Giordana. Se è presente la sua macchina parcheggiata sa che è lì. Ma Luca non trova alcuna macchina e così riparte verso casa di Alessio. Chiama di nuovo Giordana ma lei non risponde. Sotto casa di Alessio Luca vede la macchina di Giordana. La fotografa poi aspetta. Vede Giordana uscire dalla casa ma non la insegue. Per mezz'ora le telecamere lo riprendono che gira intorno a casa di Alessio. Ora però è Giordana che cerca di capire dove si trovi Luca per evitare delle sorprese non troppo gradite. Ed ora indovinate è proprio Luca che non risponde. Luca non solo non risponde al telefono ma si dirige direttamente verso casa di Giordana. Per aspettare che faccia rientro a casa sua. Giordana è preoccupata quindi sveglia Salvatore. Gli dice che Luca l'ha trattastata di chiamate ma ora non risponde. Così Giordana e Salvatore iniziano a fare dei giri in macchina per capire dove possa essere Luca. Ora effettivamente sono tutti in giro l'uno a cercare l'altra. Poi Luca si ferma sotto casa di Giordana, nasconde la macchina e l'aspetta. Intanto Vera chiama Giordana al telefono perché sono quasi le due del mattino. Insomma è tardi e Giordana deve rientrare a casa. E Giordana a questo punto non ha un'altra scelta. Va sotto casa sua e immediatamente vede Luca. Ferma la macchina e il ragazzo senza neanche chiedere sale ai suoi sedili posteriori. Luca non si aspetta di certo che Salvatore fosse in macchina con Giordana. Quindi fa di tutto per farlo andare via. Si dimostra tranquillo ma continua a ripetere a Giordana che il giorno dopo avrebbe dovuto revocare la denuncia per stalking. A questo punto Giordana rallenta la macchina, si gira, guarda Luca e dice No, la denuncia io non la revoco. Adesso basta davvero perché tu non te la meriti. Il punto è che tra i due non c'è nessuna discussione. Tutti sono abituati a vedere Luca esplodere di rabbia. Tutti. Ma in questo caso Salvatore nota che Luca è abbastanza tranquillo. Luca dice a Giordana Da oggi si farà a modo mio E poi le ripete in continuazione Dobbiamo parlare di una cosa importante e molto privata. E poi in questo modo aggiunge la frase Quindi lascia Salvatore a casa Dobbiamo parlare Insomma è importante Alla fine Giordana lascia davvero a casa Salvatore E Luca quindi si sposta sul sedile anteriore. Luca è riuscito a stare solo con Giordana E ce l'ha fatta con l'inganno Ha finto di essere tranquillo, ha finto di non avere alcun problema Ma in realtà Luca è in tasca Ha un coltello Giordana parcheggia la macchina sul cilio di una strada poco frequentata Nella campagna di Nicolosi sotto l'Etna Il racconto da questo momento in poi è quello che Luca farà Agli inquirenti dopo il suo arresto E poi quello scaturito dalla ricostruzione scientifica dei carabinieri Luca quindi appena la macchina si ferma Inizia ad urlare addosso a Giordana I due litigano e il ragazzo tira fuori un coltello E la colpisce per 48 volte Le prime sette sono al volto Poi tirandola per i capelli e immobilizzandola sul sedile del passeggero La colpisce 21 volte al dorso Per poi colpirla altrettante 10 volte al petto Dopo averla tirata su per i capelli E gettata poi supina sul sedile del guidatore Vera nel frattempo è stata addormentata Però si sveglia di colpo e si rende conto che Giordana non è tornata a casa Quindi prende Asia e si mette in macchina alla ricerca di sua figlia Il suo cellulare purtroppo squilla vuoto Vera alle 6 del mattino non sa ancora dove sia sua figlia Quindi si dirige da Salvatore e gli spiega la situazione Non sa dove sia Giordana non riesce proprio a trovarla Salvatore così sale in macchina con Vera E insieme si dirigono a casa di Luca che però non c'è Vera a questo punto pensa di proteggere la bambina di Giordana Asia La porta quindi in asilo in anticipo avvisando una maestra E infine si dirige dai carabinieri per fare la denuncia di scomparsa I carabinieri si mettono subito in allerta E ahimè in poco tempo trovano la macchina con dentro il corpo senza vita di Giordana Vera in questo momento è ancora in caserma La notizia del ritrovamento del corpo di Giordana fa immediatamente il giro del paese Che si riunisce in modo compatto davanti alla caserma dei carabinieri Sono increduli Tutti sono increduli Mentre in caserma per i familiari di Giordana si consuma la tragedia per la morte della figlia Luca è in fuga Dopo aver ucciso Giordana butta l'arma del delitto che non verrà mai ritrovata Poi va a casa Si fa una doccia Si cambia Prepara una valigia Intorno alle 3 del mattino sveglia e saluta sua madre Prende la sua macchina E si dirige a Messina Durante il percorso butta in un cassonetto gli abiti sporchi di sangue Poi sale su un treno e in tarda mattinata arriva a Milano Più precisamente arriva a Milano centrale Alla stazione Le telecamere della stazione riprendono Luca che si aggira tra la folla con una grande valigia E tra l'altro si muove anche con disinvoltura Ma ad un certo punto commette un grave, gravissimo errore Chiede il telefono ad un passante e manda un messaggio a suo padre per dirgli che è arrivato a Milano e che sta bene, che è tutto ok Quel messaggio viene immediatamente intercettato dai carabinieri Perché ovviamente in realtà il padre di Luca era già stato convocato in caserma Le autorità quindi notano il messaggio, capiscono da dove arriva questo messaggio Si attivano e da quel momento scattano le indagini per andare ad individuare Luca E in effetti Luca è sempre in stazione centrale dove viene individuato e arrestato dai carabinieri di Milano Ma Milano era davvero la meta di Luca? No, Luca voleva andare in Svizzera, più precisamente a Lugano per nascondersi Intanto a Nicolosi si svolgono i riti del riconoscimento della salma Vera decide di vestire Giordana con un vestito bianco che di solito usava quando ballava il flamenco Inoltre le incastra anche una rosa rossa tra i capelli Il 10 ottobre del 2015 a Nicolosi si svolge il funerale di Giordana E tutto il paese è lì con lei Nel processo i giudici sono chiamati a decidere se Luca nel momento in cui ha ucciso Giordana Fosse incapace di intendere e di volere In particolare se una forma estrema di narcisismo patologico Possa aver limitato in parte o totalmente la sua capacità di intendere e di volere Il secondo quesito è Luca esce di casa col fine di uccidere Giordana oppure no? La difesa è convinta che quella sera Luca non sia uscito per andare ad uccidere Giordana Perché il ragazzo è all'oscuro del fatto che Giordana non vuole rimettere la querela L'accuso e la parte civile invece sostengono che Luca avesse e come intenzione di uccidere Giordana Lo dimostra quello che ha fatto prima, durante e dopo l'omicidio Il primo elemento è relativo a come si veste e a cosa porta con sé prima di uscire di casa Indossa dei guanti, si arma di un coltello e di una pistola anche se non verranno mai ritrovati Il secondo elemento è relativo al modo manipolativo con cui separa Giordana dal cugino Salvatore Il terzo elemento a favore della tesi della premeditazione e contrario al dolo d'impeto è che Anche dopo l'omicidio Luca ha un comportamento assolutamente lucido e razionale A stabilire la capacità di intendere e di volere di Luca sono i periti del tribunale Il tribunale di Catania riconosce le aggravanti della premeditazione e della crudeltà Condanna quindi Luca con rito abbreviato a 30 anni di reclusione Condanna confermata anche in Cassazione Perdonatemi se ho fatto così ma è proprio come dire finalmente, finalmente qualcuno che riceve una pena che si merita Perdonatemi, mio piccolo sfogo Luca ha ucciso Giordana perché lei non ha fatto quello che lui voleva Ossia ritirare la querela per stalking Giordana non è morta solo per la gelosia patologica di Luca O per la difendenza affettiva di un ragazzo narciso e immaturo Ebbene no, Giordana è morta Soprattutto perché non si è sottomessa Non ha detto quello che l'assassino voleva sentirsi dire È morta perché si è ribellata e ha messo Luca davanti alla sua impotenza Scatenando l'odio e la rabbia di 48 coltellate Di Giordana resta il ricordo di una ragazzina che a 15 anni ha fatto di tutto per diventare mamma Assumendosi anche le sue responsabilità Ha portato avanti la sua gravidanza appoggiata dai suoi cari Ha fatto crescere la sua bambina con amore Si è presa cura di lei Fino a quando Luca non ha deciso di portare via quella bambina non solo a Giordana Ma anche a se stesso Anche se mi duele dirlo Forse a Luca di sua figlia fregava poco o niente Il mio pensiero oggi va alla figlia di Giordana Asia Spero vivamente e con tutto il cuore che stia bene Ma non solo il mio pensiero va anche alla mamma di Giordana E a tutti i suoi cari Detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video Spero che questo video possa essere stato per voi interessante Fatemi sapere se conoscevate questo caso Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti Detto questo vi mando un bacione Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video Mi raccomando fate i bravi Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene Ma soprattutto prendetevi cura di voi E fate ciò che vi rende felici Ciao ragazze e ciao ragazzi Ciao ragazzi